... Sentenze di primo grado, vi stiamo chiedendo se secondo voi giustizia è stata fatta con il processo di calciopoli perché puoi iscriverci al 336-744 Vogliamo ripetere, facciamo vedere la grafica Avevo da fargli la domanda Sì, sì, regia, naturalmente possiamo mandare in onda il primo grado, la grafica che riassume un po' tutto Avevo da farti una domanda Non riesco neanche a finire il numero di telefono 336-746-384 E' la nostra fanpage di Facebook, campionato dei campioni OdeMTV Naturalmente Sara, quando hai qualche messaggio, dicono Andrea, hai recuperato l'Ansa? No, tra poco Arrivo Dimmi Buscemi intanto Giustamente, prima Tony diceva che praticamente in quel periodo là la Juventus, come dice Ibrahimovic, era la più forte Giusto? Se però, chiaramente, il sistema non intaccava come squadra la Juve ma intaccava come squadra le altre In conseguenza, non si può dire, effettivamente, anche da parte mia, ti posso garantire che erano forti Ma i più forti, credimi, non te lo posso dare con la certezza Perché noi non eravamo stati messi in condizioni paritarie Tale per cui poter esprimere sul campo Tu dici, quindi che il 5 maggio è stata combinata dalla Juventus Vampetta, Ramberto e Gresco No, 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 al 5 maggio Come facevi a vincere con Gresco, Vampetta e Ramberto Vampetta e Ramberto Vampetta era campione d'Italia al 5 maggio Allora, andiamo A Lecce c'è stata Rispondimi Ah, sì Ma era campione d'Italia? Sì A Lecce c'è stata Scusami Ma se era campione d'Italia, perché non è stata campione d'Italia? Perché ti spiego Cioè, era campione d'Italia per tutti Perché era già escluso per il Po Dalla parte del Po di Torino Per gli altri era già campione d'Italia Cos'è successo? Perché vedi la forza No, dimmi cos'è successo La forza loro No, perché io non lo so No, partiamo sempre dall'inizio È stata comprata A Lecce c'è stata Una situazione tale per cui viene espulso un giocatore No, ma io voglio sapere Quel giorno A Udine c'è stata Tu stai facendo la classica È diventata tranquilla No, ma tu non mi rispondi Ma tu non mi rispondi Che cosa è successo all'Olimpico A livello di complo Probosco Gresco più che Probosco 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 Probosig è stato comprato? È stato comprato Proboschi? Io non arrivo a quello Lo chiedo La differenza l'ha fatta lui L'ha fatta Probosco Forse Gresco Suppose Sono felice Che la squadra che vince lo Scudetto Che la squadra che vince lo Scudetto Perde lo Scudetto Perché Proboschi fa una grande partita Vabbè Allora Se questa è la teoria allora ti dico una cosa quante volte la Juve ha vinto lo Scudetto nell'ultima partita, negli ultimi minuti? un casino di volte Turone no, Turone non è vero Turone, hai già subito sbagliato un anno Turone era durante l'anno un centimetro di Turone se vuoi parlo di Mantova chi è che ha perso Mantova? chi è che ha perso Mantova? chi è che ha perso Mantova? chi è che ha perso? Sarti Sarti portiere dell'Inter, comprato? no, comprato sicuramente, anche quando l'Inter dove ha proseguito la carriera? ti sei messo in un cul de sac? no, no, no aspetta, io lo so è andato alla Juventus scusami Ibrahim riceverà o no? ma non erano i tempi di Ibrahim riceverà? ma perché? non erano i tempi di Ibrahim riceverà? no, no, perché questi sono i discorsi perché i ladri sono sempre gli altri le puttane sono tutte tranne mia mamma e mia sorella anche mia moglie anche la moglie la moglie io non voglio dire non ho voluto parlare dei mariti hai detto mia mamma mia sorella no, perché guarda che queste cose a differenza di altri colleghi compreso il Buscemi Massimo io le dico grazie che mi dite il collega sono solo pubblicità io le dico perché la storia di Giuliano Sarti la conosco a memoria e chi ha comprato anche Sarti un anno dopo non quell'anno lì la conosco a memoria però a me piace sapere da te in questo momento che un giocatore tesserato dell'Inter è stato venduto lo devi dire è stato corrotto un giocatore dell'Inter corrotto Giuliano Sarti dillo io no io no e no perché altrimenti è troppo comodo fare questi discorsi non voglio passare la vita a andare a dare i soldi a questi qui e allora bisogna avere il coraggio il coraggio bisogna avere il coraggio e non fare come il tuo presidente che manda avanti gli altri ok allora andrebbe avanti andrebbe avanti andrebbe avanti in corso della diretta mi sta chiedendo su quale canale Sky siamo no, lo ricordiamo visto che il nostro canale Sky è cambiato siamo sul canale Sky 914 mi raccomando per sempre speriamo io nel frattempo gli assolti se volete posso concludere? no canale digitale terrestre 177 canale Sky 914 Andrea Lozappio cosa ci vuoi dire? abbiamo gli assolti anche nel calciopoli bravo perché abbiamo parlato di cosa chi sono le persone assolte poi andiamo dalla sala sono otto persone innanzitutto Gennaro Mazzei collaboratore dei disegnatori Mariano Fabiani ex direttore sportivo del Messina Maria Grazia Fazzi segretaria della FIGC Ignazio Scardina giornalista Pasquale Rodomonti ex arbitro Ambrosino c'è Nicola Gemignani assistenti la Fazzi mi sembra abbastanza un escalation perché era forse una all'inizio delle indagini probabilmente una che reggeva un certo meccanismo mi meraviglio come è però è stato bravo il suo avvocato la giustizia ha deciso così no un momento ragazzi scusa non dire è stato bravo il suo avvocato cioè non bisogna dire così sono bravi anche gli avvocati sì ma io ma noi quando ma certo che sono bravi sono bravi anche sono bravi sono i magistrati a condannare però tu devi dire evidentemente non c'erano elementi evidentemente non ha commesso il fatto questo è in teoria questo è tutto da stabilire questo è in teoria hai ragione ma in teoria dico in teoria almeno almeno finché non leggiamo le motivazioni della sentenza ma comunque i telefilm li fanno super in mezzo non sul giudice era mica la segretaria di Massimo attenzione attenzione che O.J. Simpson sì appunto è stato assolto a proposito della giustizia americana è stato assolto perché il capo della giuria in una dichiarazione ufficiale ha detto noi eravamo tutti convinti della colpevolezza di O.J. Simpson non abbiamo avuto una prova schiacciata abbiamo assolto O.J. Simpson per cui il famoso ragionevole dubbio O.J. Simpson quindi era 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 per due omicidi la moglie e la morte quindi il capo della giurità dice siamo convinti della sua colpevolezza non abbiamo nella sentenza nella sentenza di Merdi hai ragione non so se hai letto le dichiarazioni del giudice ha detto ha detto abbiamo oggi si è aperto cos'è che ha detto Tony adesso non mi ha detto oggi si è aperto non eravamo convinti anche se tutti pensavano che fosse un'altra vicenda no vedi il discorso è la colpevolezza per cui non l'abbiamo discorso state dicendo quello che ho detto io cioè tu hai già dovuto siccome non hai prove in quel caso è stata assolta certo chiaro non sempre non sempre però scusate abbiamo oggi si è aperto di nuovo il processo di appello il processo di appello di Stasi che era stato assolto con formula dubitativa dubitativa sì però da una condanna a 30 anni sì certo hai capito cioè abbiamo stiamo parlando di omicidi qui stiamo parlando di omicidi un argomento sicuramente un po' più complessi assolutamente detto questo comunque ha fatto dei rischiere detto questo adesso sarà interessante però a conoscere le motivazioni della sentenza esattivare vedere nel prosieguo che ci sarà evidente sicuramente sì se in appello ci sono delle modifiche di situazioni e se i famosi diciamo pezzi monconi tronconi chiamiamoli così delle intercettazioni vengono rinfilate dentro alla luce di elementi nuovi chiaro quello che io mi chiedo però lo chiedo è non è una provocazione lo chiedo chiedi come mai gli avvocati difensori non sono riusciti a far infilare questi elementi nuovi visto che c'è stato almeno questo è interessante un paio d'anni il tempo questo è interessante cioè ma questa tua domanda che è legittima bisogna farla alla Casoria e agli altri giudici perché anche perché anche perché voi mi insegnate io ho fatto la premessa Casoria no Narduce e Beatrice hanno fatto il loro lavoro come si dice in America lo sporco lavoro allora hanno fatto il loro lavoro ci mancherebbe altro hanno portato avanti si occupano di altro si occupano di altro i giudici Casoria è poco e Casoria è poco sì ma scusate io faccio meglio la domanda perché non mi sono spiegato bene allora da qua no 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 vado cosa vuoi rivolgere a questa domanda ma chi sanno i giudici allora ci sono migliaia e migliaia di intercettazioni quindi voi state sostenendo che le intercettazioni sono state opportunamente ritagliate ricucite alcune messe via questa dice la difesa alcune parti non utilizzate all'interno di un'intercettazione non solo ma molte intercettazioni né tagliate né moncate proprio messe da parte e non utilizzate su 5.000 quindi noi stiamo sostenendo che in tutto il baraccone ce ne sono alcune solo alcune sono state prese in considerazione e quelle alcune prese in considerazione sono quelle che hanno portato alla condanna di Moggi e tutti gli altri e basta certo state sostenendo questo? no no lo sostiene il giudice no lo dico io abbiamo un obbligo pubblicitario ora andiamo da Sara e adesso lanciamo il super spot AXA grazie subito da Sara andiamo a leggere qualche messaggio i nostri telespettatori ci chiedono perché non dite che giornali e televisioni hanno trascurato le nuove intercettazioni per paura di perdere la pubblicità di Telecom e ancora Massimo da Roma quelli nei confronti della Juve e raspiraggio industriale tanto più che la Juve è società quotata in borsa ho finalmente due SMS che trovano l'approvazione anche di Damascena no ma dovrebbero trovare l'approvazione del cittadino normale compreso interista che non c'entra niente l'interista io ho detto qui proprio a difesa del cittadino non c'entra essere i juventini interisti milanisti qualcuno dovrebbe capirlo a casa dovrebbe capirlo a casa se non l'ha capito mi dispiace perché mi auguro che non accada mai che escono da casa e c'è uno alle loro spalle che li segua quando vanno allo stadio quando vanno al cinema perché danno fastidio a qualcuno allora la sentenza è uscita attorno alle 20 minuto più minuto meno andiamo a distanza di due ore a vedere le home page dei siti internet dei tre quotidiani sportivi Gazzetta Corriere dello Sport e Tutto Sport questo è il titolo di Tutto Sport partiamo appunto da quest'ultimo tutti i colpevoli leggimi anche il sommarietto se riesci il sommarietto calciopoli moggi condannato 5 anni e 4 mesi ok poi cosa abbiamo poi abbiamo la Gazzetta la Gazzetta dello Sport Gazzetta.it andiamo giù si è bloccato si è bloccato internet esatto comunque calciopoli colpevoli eccolo qua esatto a moggi 5 anni e 4 mesi per associazione delinquere per i della Valle Lutito un anno e tre mesi ok abbiamo poi il Corriere dello Sport anche qui siamo bloccati calciopoli tutti colpevoli a moggi 5 anni e 4 mesi non proprio il massimo dell'originalità sì sono d'accordo queste sono le prime pagine queste sono le home page ci aspettavamo qualcosa di più da tutto sport che di solito ha molta fantasia nei titoli ma vediamo magari cambia qualcosa nel giro non da fino alle 23 45 magari cambia qualcosa ora dell'ora pubblicità a tra poco si blocca sto coso qui